Benvenuti al Tg Riviera dei Fiori, il notiziario della provincia di Imperia. Falso allarme bomba, questa mattina in Tribunale a 20 miglia intorno alle 10 e mezza, ai centralini del Tribunale una persona con un forte accento meridionale ha semplicemente detto c'è una bomba nell'edificio e ha subito riattaccato il telefono, una dozzina di persone che in quel momento stavano partecipando ad alcune udienze civili sono state fatte uscire dallo stabile per precauzione, sul posto sono giunti i carabinieri e un nucleo di polizia con tre cani addestrati alla ricerca di esplosivi, ma dopo un'attenta ispezione dell'edificio l'allarme è rientrato, ora si sta cercando di risalire l'identità della persona che ha effettuato la telefonata, nel caso in cui fosse smascherato verrà denunciato per procurato allarme. Ora veniamo ad un argomento che ha tenuto banco nei giorni scorsi a Sanremo e non soltanto anche in altri comuni della provincia di Imperia, ci riferiamo alla difficile situazione dei dipendenti della società Aimeri che ha in appalto in diversi comuni della provincia il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti, i dipendenti non ricevevano in questo periodo lo stipendio in modo regolare e c'erano anche dei contrasti in particolare tra il comune di Sanremo e la ditta sulle modalità di pagamento degli stipendi e dell'accantonamento del TFR. Questa mattina in comune c'è stato un incontro tra i dirigenti dell'Aimeri e gli assessori comunali e alcuni dirigenti. Vediamo il servizio. Ci sono voluti giorni di protesta dei dipendenti, minacce di sciopero e l'acquisizione di documenti da parte della procura, ma alla fine i dirigenti dell'Aimeri che per alcune settimane avevano evitato il confronto, non partecipando neanche all'incontro con il prefetto di Imperia, Fiamma Spena, si sono presentati in comune a Sanremo per affrontare i problemi relativi agli stipendi e al versamento del TFR dei dipendenti. L'Aimeri è una società del gruppo Biancamano, lo stesso che gestisce la discarica di Ponticelli sotto sequestro preventivo dall'aprile 2010 per inosservanza di prescrizioni ambientali. Si tratta di una società quotata in borsa, facente capo ai fratelli Gian Battista e Pierpaolo Pizzimbone, con un impegno importante nella provincia di Imperia, dove ha in appalto il servizio di raccolta e spazzamento di una decina di comuni, tra i quali Taggia e appunto Sanremo. E proprio l'amministratore delegato dell'Aimeri, Pierpaolo Pizzimbone, si è presentato questa mattina in comune per incontrare gli assessori Antonio Fera, Alessandro Dolzan, Franco Solerio e Michele Pinzuti e alcuni dirigenti comunali. Durante la riunione sono stati esaminati tutti gli aspetti dei rapporti tra aziende e comune che sono stati oggetto di contestazioni. In particolare, per quanto concerne il ritardo del pagamento del mese di dicembre e di quelli precedenti, l'azienda si è scusata con i lavoratori e le famiglie, sottolineando il difficile momento finanziario della società a livello nazionale. L'Aimeri si è impegnata a garantire il pagamento puntuale per i mesi a venire, nonché a riconoscere ai lavoratori con la prossima busta paga gli interessi maturati per ogni giorno di ritardo. L'azienda si è impegnata anche a rescindere il rapporto con un'agenzia finanziaria alla quale aveva ceduto il credito e ad aprire un conto corrente dedicato al comune di Sanremo, dove confluiranno tutti i pagamenti da parte del comune e da dove partiranno tutte le spettanze pertinenti all'appalto stesso. La quota di TFR mancante verrà versata contestualmente al pagamento degli stipendi di gennaio, che avverrà entro l'11 febbraio. Sul fronte della sicurezza dei mezzi di lavoro, al centro di una interpellanza consigliare della minoranza, in quanto alcuni non rispetterebbero le prescrizioni di legge e non sarebbero in regola con le revisioni, è stata costituita una commissione tecnica formata da rappresentanti dell'azienda e del comune, che prenderà in esame lo stato dei mezzi e predisporrà la verifica e rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e di quelle della circolazione stradale. La prima data utile per verificare il rispetto degli impegni da parte dell'azienda sarà quindi l'11 febbraio, giorno previsto per il pagamento degli stipendi di gennaio, una soluzione che potrebbe evitare lo sciopero dei dipendenti previsto per il sabato del festival, che avrebbe una ripercussione fortemente negativa sull'immagine della città nella settimana più importante dell'anno. Intanto, dalla Procura di Sanremo non trapela nulla sul motivo dell'acquisizione della documentazione sull'appalto tra Lai Meri e il comune stesso, avvenuta da parte degli investigatori della squadra mobile della Questura di Imperia. La polizia ha agito su mandato del sostituto procuratore sanremese Antonella Politi, che ha aperto un fascicolo. Il cuore del festival della canzone batte come sempre anche al Casinò, il luogo che diede i Natali alla manifestazione Canora nel lontano 1951. Anche per questa edizione la casa da gioco avrà un posto di primo piano negli eventi legati al festival e in particolare in alcuni eventi radiofondici molto seguiti dal pubblico delle radio. Ne abbiamo parlato con il consigliere di amministrazione della Casinò S.P.A., Marco Cambiaso. L'importanza della Casinò all'interno di quelle che sono le manifestazioni del festival anche quest'anno sarà di rilievo, nonostante giustamente quelli che sono le revisioni, i tagli in un discorso logico di risparmio, visto l'andamento nazionale, però ci sembra importante che questo teatro sarà protagonista durante la settimana del festival con la presenza di Radio 2 e con Ruggito del Coniglio, per cui ci sarà libero accesso alle sale e si potrà venire al teatro a vedere direttamente e in diretta la trasmissione di Ruggito del Coniglio. Oltre a questo avremo sempre Radio 2 con Social Club, il venerdì e il sabato, molto importante che le Casinò ospiterà anche la cena degli abbonati, cioè quelli che si sono guadagnati un posto in prima fila, per cui saranno ospiti del RUF e avrà ampio risalto in questo, quello che è la nostra ristorazione e soprattutto quello che è l'accoglienza della Casinò S.P.A., ma soprattutto di Sanremo, perché secondo noi Sanremo, e di questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione, si è mossa nel migliore dei modi per aprire e per portare l'ospitalità, non solo a quella che è la carovana del festival, quelli che sono i giornalisti, gli addetti lavori, ma per ricevere tutte le persone che verranno a visitare Sanremo durante il festival, in modo tale che Sanremo sia una settimana di festa. Avremo anche collegamenti in diretta con la RAI e soprattutto con la vita in diretta, direttamente all'esterno del Casinò, perché la trasmissione non si svolgerà quest'anno all'interno del Leatro, ma direttamente da quelli che sono gli studi di Roma e in più la RAI ci ha garantito altri spazi in cui avremo altri collegamenti con altre trasmissioni, sempre qui dal Casinò di Sanremo. Ecco, e proprio su questo aspetto ci siamo soffermati perché il festival ha una caratteristica particolarmente televisiva, è fatto di immagini e colori, ma c'è anche un nutrito pubblico che per motivi di lavoro, per altri motivi, perché in viaggio, perché magari non ha particolarmente mezzo televisivo, preferisce seguire il festival alla radio. Ne abbiamo parlato con il direttore di RAI 2, Antonio Preziosi. Il Festival di Sanremo nasce alla radio, noi quest'anno riproponiamo la diretta delle serate del festival, la RAI ha voluto che fossimo presenti anche come radio, Radio 1 è la radio ufficiale del festival, quindi con questa formula, canzoni e campioni, noi manderemo in onda in diretta il Festival di Sanremo con degli spazi informativi anche dedicati agli aggiornamenti delle partite di calcio. Insomma, una formula che ribalta il tradizionale schema di tutto il calcio minuto per minuto in maniera originale, sempre nello stile della radio. Le canzoni ripulite dalla suggestione delle scenografie, delle immagini, dei colori, è un modo migliore per apprezzare la musica? Ma ascoltando appunto la musica, ascoltando le emozioni con quella forza e direi anche quel valore aggiunto che la radio sa dare. Poi i nostri radiocronisti, la nostra Carlotta Tedeschi, il nostro Gian Maurizio Mofoderaro sono bravissimi a far vedere alla radio anche la bellezza del Festival di Sanremo. Ce la metteremo tutta come ogni anno. Ecco, ho sbagliato il lancio, si trattava di Antonio Preziosi ma direttore di RAI Radio 1 naturalmente. È tutto per oggi, vi ricordo che questa sera alle 21 sulla nostra emittente andrà in onda la partita di palanuoto Mediterranea e Imperia, Orizzonte Catania e poi come di consueto le nostre rubriche. È tutto per il momento, vi auguro una buona serata. Grazie.